ciao a tutti questa è una partita di demolizione a cargo nel porto di singapore ma passiamo subito ai contenuti ovvero questa è la nuova arma il peacekeeper l'ho provata un po' in tutte le salse come si suol dire con quasi tutti gli accessori e posso dire che è una buona arma non è eccezionale ma state attenti perché essendo un ibrido vi potrà trarre un inganno praticamente questa si presenta appunto come un ibrido tra un fucile d'assalto ed una mitraglietta avendo la classica velocità di movimento di una mitraglietta ma con la portata e la precisione di un fucile d'assalto ora dopo aver sentito queste parole e dopo aver visto le statistiche dell'arma voi ma non solo voi anche io la prima volta ho pensato che fosse un'arma veramente eccezionale ma invece non lo è ma è una discreta arma in pratica la consiglio per le medie e le medie distanze dove si dove si esprime al suo al suo meglio con le medio corte e le medio lunghe distanze è sempre buona invece da corto raggio secondo secondo me è un po inconsistente inconsistente perché il rato di fuoco non è poi così eccessivo non è proprio il massimo certo altrimenti sarebbe stata l'arma definitiva ma comunque dalle brevi distanze contro contro qualcuno che ha una smg la maggior parte delle volte morirete proprio perché lui ha un rato di fuoco maggiore rispetto al vostro anche se voi compensate il tutto con con la precisione bene detto questo il danno all'incirca è il solito delle delle mitragliette e in questo caso stavo utilizzando fmj e il fest mag la ricarica rapida fmj lo stavo usando perché a cargo ci sono tante coperture e essendo il danno quello di una mitraglietta avevo bisogno di di quella spinta in più per perforare i materiali detto questo vi posso consigliare beh diciamo che non è tanto un consiglio ma quanto un suggerimento state molto attenti con quest'arma perché vi potrà trarre l'inganno ovvero avendo la classica velocità di movimento di una smg sarete tentati di andare sempre di lasciare di andare sempre avanti ma invece no vi consiglio di non farlo proprio perché alla fine negli scontri a fuoco ravvicinati non siete poi così agevolati la trovo come ho detto la trovo molto buona dalle medie distanze e la velocità di movimento maggiorata rispetto ad un fucile d'assalto vi consente di ritornare o cambiare copertura nei momenti più opportuni senza lasciarci le penne altro pregio non da poco è il non dico totale assenza ma il moderato rinculo che quest'arma offre con l'impugnatura diventa diventa praticamente zero proprio non zero ma comunque ne ha veramente poco poi ognuno applica gli accessori che preferisce ma devo ammettere che questa è un'arma decente che non non ne ha bisogno come dire esplicitamente di accessori è buona anche per essere giocata così liscia in modo da risparmiare qualche punto non so per metterlo in un altro perk o per le granate o per qualche altra cosa fatto sta che l'ho provata anche con fuoco rapido mamma mia fuoco rapido uno degli accessori più inutili di black hopes 2 nel primo black hopes fuoco rapido era non dico un must ma comunque una cosa veramente incredibile sulle mitragliette le rendeva veramente veramente forti qua invece fuoco rapido toglie tantissima precisione aumenta di molto il rinculo diminuisce la portata e quindi per questo motivo del ratio di fuoco maggiorato non te ne fai praticamente più di niente a meno che di non giocare con mirino laser e fare spray in prey a nuke town ma comunque continuando questa analisi il silenziatore si rivela veramente ottimo se abbinato a quest'arma mentre per quanto riguarda canna lunga come ho già detto non è che ne abbia proprio un estremo bisogno ma comunque è indicato solamente per le lunghe distanze poi andando avanti il mirino laser ovviamente sopperisce un po' la sua carenza negli scontri a fuoco ravvicinati e quando sparate di hip fire mentre per i mirini beh per i mirini sono un po' scettico sull'utilizzo dei mirini sulle sulle mitragliette perché solitamente hanno un effetto molto consistente sul rinculo e sebbene su quest'arma un reflex ci possa stare non vi consiglio nell'acog né l'acog né le dtt tech a meno che ovviamente non vi piacciono e o ci sapete giocare vi trovate bene anche perché ambedue questi ultimi mirini ho riscontrato che aumentano di molto il rinculo quindi io solitamente opto per i caricatori aumentati che alla fine non fanno mai male sempre se ho necessità e o voglio mettere altri accessori o la ricarica rapida che è sempre è sempre utile fuoco rapido ve lo consiglio solamente giocandolo con l'impugnatura mentre il calcio non credo proprio che ne abbia bisogno visto che la mobilità è già quella di una smg mentre invece il selettore di fuoco potrebbe rivelarsi utile nelle mappe grandi visto che passare a una rapica con la portata e la precisione che si ritrova quest'arma potrebbe essere veramente veramente letale e darvi un bel vantaggio sugli avversari quindi ricapitolando oltre al difetto della inconsistenza continuiamo a chiamarla a questa maniera degli scontri ravvicinati l'altro secondo me difetto ma non difetto eccessivo è proprio la sua incredibile precisione dico incredibile perché quando mirate e credo che ve ne sarete accorti anche voi quando mirate a volte non importa proprio che riusciate a centrare il nemico per colpirlo mentre con quest'arma invece quando mirate dovete essere non dico dei chirurghi ma comunque dovete sempre mirare addosso al nemico perché i proiettili tendono a non colpire altrimenti in sintesi posso dire che questa è un'arma buona non è un'arma definitiva che rompe il gioco ma comunque si rivela un'arma polivalente adatta ad ogni tipo di situazione e grazie agli accessori potete personalizzarla in modo da farla diventare come più vi aggrada o come meglio ritenete opportuno giocarla nella mappa in cui siete detto questo il video è giunto al termine grazie per la visualizzazione alla prossima